Gli studenti 15 anni del Veneto tra i più bravi del mondo in matematica e scienze, ottimi risultati anche nella lettura. A confermare i risultati dei test OX e PISA 2012, che collocano il Veneto al 14esimo posto tra le regioni del mondo occidentale, per capacità di apprendimento e comprensione della matematica. Malgrado la media nazionale non sia degna di vanto, i Veneti sono riusciti a distinguersi tra i migliori della zona occidentale, ottenendo un ponteggio pari a 523 punti, appena dietro i trentini e a pari merito dei friuliani, risultando così ai livelli di Svizzera, Olanda e Finlandia. Per quanto riguarda le competenze nelle materie scientifiche, il Veneto è riuscito a classificarsi al dodicesimo posto, sempre in compagnia di Trento e Friuli. Con la lettura, invece, il Veneto si qualifica al tredicesimo posto della classifica mondiale. Il rendimento scolastico, secondo l'OX, è collegato anche alla disciplina e alle frequenze. Non a caso, in Italia, la percentuale di chi non è mai arrivato tardi a scuola è molto più elevata in Veneto e nelle altre aree del nord-est, toccando punto del 75%. Nonostante gli eccellenti risultati, rimane il problema degli studenti immigrati, che hanno ottenuto ben 48 punti in meno rispetto ai loro colleghi italiani, senza alcun tipo di miglioramento nell'ultimo decennio. Un dato che allarma soprattutto il Veneto, dove la presenza di studenti immigrati si avvicina a un terzo, incidendo così negativamente nel risultato complessivo. Grazie. Grazie. Grazie.